A sto giro l'episodio di oggi lo andremo a fare completamente al buio perché sono qui per mostrarvi ogni singola colorazione di ogni singola funzione di questa tastiera della DB Power. La tastiera in questione costa circa 38€, contattando la DB Power potete farvela dare al 50% di sconto. In pratica quest'oggi andremo a vedere le sue funzioni speciali. Le prime 4 che andremo a vedere oggi, inclusa quella che stiamo già mostrando in questo momento, sono le 4 semplici che di solito si trovano in tutte le tastiere. Poi ce ne sarà una a fine video che vi piacerà veramente tanto e non è da tutte le tastiere, soprattutto dalla mia meccanica che costa ben 180€ e non c'è questa funzione, però è una figata. Allora, l'F1 parte la modalità arcobaleno, cioè in pratica i colori partono dalla destra e vanno sulla sinistra. Questo è molto semplice, possiamo anche decidere da dove far muovere l'arcobaleno attraverso i tasti direzionali. Prima di allora vi mostro alcune funzioni semplici che poi non vi andrò più a mostrare. Per abbassare e alzare la luce dovremo premere il tasto FN e poi da lì potremo impostare se una luce tenue, molto bassa o molto alta. Funzione 2. La funzione 2 è più dal lato meccanico, cioè più a selettiva come cosa. Possiamo anche qui decidere il flusso dove mandarlo, se a destra o a sinistra. Possiamo impostare una velocità maggiore o minore tenendo i tasti premuti e dopodiché possiamo passare alla numero 3. La numero 3 è praticamente una random colore, cioè possiamo decidere il tipo di colore. E decidere anche se mandarlo più in slow oppure più veloce come cosa. Quindi possiamo decidere se mandare le luci più veloci oppure più lente. Quindi possiamo fare proprio tutto quello che vogliamo. Inoltre passiamo, ora siamo al numero 4, adesso passiamo al numero 4. Questa è la numero 4, detto sinceramente io la salterei perché non è neanche bella da vedersi. Possiamo appunto decidere un secondo la velocità sempre ma non la direzione. Possiamo decidere anche la luce, quindi è ancora attiva la funzione. La numero 5 è manual coloration, cioè praticamente possiamo impostare il tipo di colore che vogliamo. Che sia rosso, che sia verde, che sia blu, che sia giallo, che sia azzurro, che sia viola, che sia bianco o che sia arcobaleno. Numero 6 è invece la colorazione randomica. Possiamo impostare il tipo di cadute di colore, cioè in pratica possiamo decidere che tipo di colorazione deve avvenire. Quindi possiamo mischiare più colori insieme, anche se non ho capito ancora com'è. Numero 7 sono solo i tasti W, S, A e D ad essere illuminati, quindi per il gioco in pratica. 8, la 8 ha una funzione speciale. So che non vedete più niente, non è la telecamera che ha smesso di funzionare. Ma la parità è dove andiamo a premere, quindi io premo dal tasto D, che adesso non riesce neanche a mettere a fuoco. Quindi devo un secondo illuminare la tastiera, se no non riesce a mettere a fuoco. Dove io andrò a premere, quindi che sia dalla S, lui andrà a diramare la luce su tutto il lato a tastiera. E questa cosa funziona anche se io premo il tasto P. Se premo il tasto P, come vedete, si illuminerà tutto e si andrà a diramare. Questa è la funzione numero 7. Passiamo alla 8, anzi alla 9, quindi siamo già alla 9? Sì, siamo già alla 9. La 9, come noterete, funziona a comando vocale. In pratica voi state ascoltando della musica, state ad esempio giocando, esplode una mina, la vostra tastiera si illuminerà. E qui potremo andare a impostare anche la sensibilità della voce. Quindi attraverso questa funzione potremo andare ad abbassare la sensibilità. Di per sé dice il manuale di istruzione che per abbassare la sensibilità del suono dovremo solo andare a impostare dalla luminosità. Page up e page down. Il problema è che abbassa la luce, ma non la funzione. Quindi credo che questa era una cosa, una variante che non sono riusciti a inserire. Questo era il video sulle luci di questa tastiera. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata del Computer Museo. Ciao ragazzi!